Buon Natale a tutti, questo è quello che stanno guardando il video, guardate che suona Stiamo facendo la discesa, sto facendo un video, la discesa Ciao ragazzi, stiamo scendendo, c'è molto ghiaccio, ok ragazzi, siamo quasi arrivati alla macchina, quindi vi dicono che cosa succede Quindi ragazzi, il viaggio è quasi finito, stiamo arrivando alla macchina Di livello positivo, poi? In due ore e mezza Bene, bene ragazzi, buona serata e ciao Guardate che nebbia che c'è E qua bisogna fare attenzione E domani ragazzi facciamo un altro giro in montagna con il mio giro E domani amore, non lo so, se dobbiamo andare a fare un giretto a cuneo, dipende anche dalla tua caviglia, dal mio ginocchio Vediamo Già Vediamo Grazie Grazie Grazie.